Ciao a tutti belli e brutti, ben ritrovati qui sul canale di Gamers in una certa maniera, io sono Mattville Gamer e siamo pronti, continuiamo, continuiamo con Onkai Star Rail Allora, vediamo che c'è già, oh madonna, magari con la X, non con il quadrato Ah si? Oh, wow, ok The Astral Express was a creation of the Eon, Akkivili the Trailblazer Akkivili the Trailblazer So what the Trailblaze, the Eons and Akkivili are all about, let's talk about it when things have calmed down a little I don't want to overwhelm you now, do I? Light cones were created by the Garden of Recollection These followers of the Eon of Remembrance refined memory fragments to create light cones which preserve memories But you've already realized it, haven't you? Since light cones can preserve memories, it can also preserve experiences and abilities That's why light cones are extremely precious rare items under level 2 restriction by the Interastral Peace Corporation As far as I know, only the IPC possesses light cone technology authorized by the Garden of Recollection I couldn't say what deal Herta made with the Garden, but knowing her, it was likely off the books You should cherish every light cone, they are all precious memories of their original owners Esauriamo tutte le linee anche di lei I have a couple of hunches, but I can't prove any at this point So they'll be my little secret for now Are you concerned about your past? You seem like someone who prefers to look forward rather than back Or maybe I'm just describing myself Ok Come by me anytime if you have more questions Va bene, va bene Mikko Quando avrò bisogno verrà da te Per farmi fare la lezione What should we do? They said there are monsters in the storage zone Mr. Capote He's prepared for Master Capote He's still in the analysis room of the department of You know, there's loads of monsters in the storage zone And some of them aren't even on the storage zone You're so annoying Stop saying that Hey, how old are you? Don't be a baby Please stop crying How about I pretend to be a monster for you, huh? ROR Non è che funziona molto bene? No! Tutto da cavo? ROR Simpatico sto ragazzino ROR Sembra il mio lavoro Dove ti dicono Hai fatto questo, hai fatto quello Mamma mia Che simpatia Prova di parte Anche tu le vale Bravo E allora Riscrivilo Per non romperi a me Ah no, l'ho già fatto, Luca, sto... No, no L'ho già fatto, no? Ah no, e questo, ero Sì, sì, era quello che faceva Prezis beat after me All together Sì, sì, va bene, va bene Lo farò, lo farò Proteggerò in un life, eh, something Ma what? A che diceva questa altra That's exactly what was written on the mystic role of islands It refers to the followers of the unknown Oh, be Oh, oh Have you also come to witness the power and miracle of the eons? Then, go over there There's a good spot, right there Beware of any interferences from your mortal body when observing You must see every detail ok 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 ora mi chiamo a Antidine ora mi chiamo a Arlan come si è piaciuto il antimetro come si è piaciuto come si è piaciuto questa pece è niente sono appena in realtà devo essere orgoglosa è un ricordo di essere ma non Don't tell lead researcher, Asta, what I just said. My first impression was that she was the daughter of a rich family, owners of a big company. She was kind to me, though. When she went to the space station, I followed her. I don't know much about science, but I'm glad to be able to protect people in pursuit of their research. Okay. There were a few researchers who didn't. The rest are fine. Mostly minor injuries, but I'm worried about their mental states. Most of them came to the space station because they admired Adam Hurt, but now they can't reach her or even their own families. I just hope they can all survive this crisis. I hope all this chaos will end soon. Arrows. Okay. Amber. Chorus. Oh. Amber. Chorus. Yep. Okay. Light cone enhancement. Ah, okay. Questi servono... Questi materiali che servono per fare... L'upgrade dei light cone. Okay. Abbiamo fatto light cone, quindi adesso... Possiamo procedere? No. Search for other researchers... Ah. Ciao! ah ops non riuscivo a passare mi ancoravo contro le pareti come un po' stupido ah incalo questa è quella che carica le penne stick ma va il control stick non aspetta non ho capito niente up spectrometer, down for the filter, left turning, attenuator e signale ah madonna non avevo capito non avevo capito me l'ero perso non pensavo fosse lì direttamente la scelta bisogna dovessi fare qualcosa dovessi spostarmi abraham era vicino non lo so come dire la priorità principale è di preservare la station space e concentrare non lo so va bene ok lei l'ho aiutata l'ho aiutata in una maniera un po' assurda però l'ho aiutata non mi sono neanche accorto l'ho aiutata l'ho aiutata l'ho aiutata l'ho aiutata Oh kicking cả diese I need to leave I need to run no No Iti is impossible Non mi sembrava che non mi sembrava, non mi sembrava. Il ciclo di vita! Tutti stanno dicendo questo! Le cose saranno migliori, le cose non sono negativi, un positivo, un negativo di un... La vita inevitabilmente viene a un final, ma non oggi. Ma inseribile! Siamo prenderemo insieme! Grazie! C'era un po' di te. Siamo prenderemo insieme! C'è un po' di te. E' 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 un po' di te. Va bene. Quanti tu lo carai, te Master Control Zone, è un report, tutto basta. Te Master Control Zone... che sarebbe? Questo sarebbe. Quei sono i miei... i miei cibochi miei... I cipapolato tutto, te Maledetto! Why did those monsters have to breach the ionizing grid on my watch? It can't be my fault. I'd never make a mistake like this. I'm going out there to check the data again. You are injured. It's dangerous outside. Don't be here. It's dangerous? Of course it's dangerous. I just came back from the front line. I know that better than you. The Space Station Shield's first line of defense is the anti-gravity ionizing grid. I'm the researcher in charge of it. Do you expect me to just sit here after something like this? It's not your fault. I agree. But when the investigation is over, the blame will fall entirely on my shoulders. Besides, a bunch of troublemakers are still out there. I know you mean well. Oh, are you going? Well, it's... It's... You're arrabbiated. What can I do? Well, there are things that can't be... I've seen it immediately. I've seen it immediately. Oh, there's an alarm. Oh, well, it's obvious. Oh, it's obvious. Oh, it's obvious. It's obvious that it breaks everything. Take the express and leave. I'll stay. But... Let's go. Let's go. Siamo scappati con la coda fra le gambe. What? 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 tu devi sentire! ci avrei qui tu dev'essi sentire tu devi sentire tu devi sentire si abbiamo scoperti noi abbiamo scoperto e rimanere la città di DOOM è stata la città di creata se ne portano di intervenire non deve essere non ci sono problemi ma non possiamo solo rinare così non? There should be Ok. I can't handle, I can't handle, the destruction emanator, I still feel that thing won't be going as planned. Let's hurry up and get out of here, I'll explain it. Tagliato il discorso, tagliato via tutto, che ci sta sempre bene il taglio così proprio lì è chiuso, ma di qua dove dove dovevo andare, ma per andare dove devo andare, dove devo andare? Ok, avrei qui, io non ho spazio access, ok? Va a far vai. Oops, io non ho spazio? No, ma l'ho visto questo? Oh, quanti? Ok, come via. Step aside, I have no interest in stoking content. Imeku can launch follow up at the during battle. Ok. Every time I invent weakness break Imeku accumulate charge. Weakness break. Ok. The truth of life and death. 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 PAM! L'abbiamo adotta da... Ancora? Tornata? L'abbiamo adotta da... Ah, però non. C'è da via. Un charge rich 3 point Imeku will onto adi launch a follow up at the time. Ok, Gai, goodbye. Ok, Gai, goodbye. Ok, Gai, goodbye. Con me qui, come potremmo perdere? Facciamolo rapido. Facciamolo rapido. Ho qualcosa per te. Ma guarda che... Sto maledetto. Battle is over! Spacchiamo tutto. Battery is over. Mannaccia, mannaccia. Battery is over. Bavi. Bavi. Scusate, continua a schiacciare L1 invece che R1. Scusate. 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 dai tiragli un po di mazzata e ci saluta ci saluta così in diretta che la faccio attaccare ma non ha senso attaccare con lei vabbè now watch this oh la che combinazione ciao 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 mi cura senza curarmi attenzione il monopattino pip 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 mi ha aperto il ponte di barrecca purtroppo buona buona Mi sa che qui c'è qualche boss, ahah noi stavano un po' troppa roba Capito Capito mi hai Capito 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 scusate non riuscivo a prendere la mira, continuiamo a muoverci non mi ha fatto male attacca attacca poi usiamo il suo Eveli Flair ma che... ma che sa... ah vabbè tutti li attacca e la madonna allora gli attacca... ma non sei nemmeno morto ma dai adesso si oh madonna che legnato che legnatone adesso andiamo di qua... no e allora scusate ma perchè prima diceva di qui allora prima diceva di andare di qua ok ok come si no ma si ok vai bro ecco 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 Come? Try that again! Combat is a series of precise machinations. One at a time! You can't run! Clemency? Never heard of it. Mi turno. Stai right there while I give you a present. Try that again. You can't start! What are you doing? Gotta try hard sometimes Check out this awesome move! With me out here, how can we lose? Let's go Batter up! Try that again! Grazie a tutti. You can't run! The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision! Ch- Grazie! Stay right there while I give you a present! Let's make it quick. 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 Grazie a tutti. 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 Ci vediamo alla prossima.